Cosa? Cosa? Oh no, è uscito ora il gioco, devo comprarlo, devo comprarlo! Julianna, scendi per favore, vogliamo mangiare? Tuo padre dorme ancora, ma non lo aspettiamo. Mamma, posso chiudersi una cosa? C'è un nuovo gioco, me lo compri per favore, per favore! È bellissimo, è appena uscito da un paio di giorni, ma non penso di averne così tanto, me ne dai un pochino! Julianna, sì, potresti comprarlo, ma con i tuoi soldi se non è abbastanza, allora devi spermiare! Oh mamma, dai, non ne ho così tanti, per favore! Oh, accidenti! Mamma, ti prego, ti prego, voglio comprarmi questo gioco, ti prego! Julianna, te l'ho già detto, questi giochi, ok? Solo con i tuoi soldi, se no devi aspettare che ne è abbastanza! Oh mamma, no, no, mangio solamente se dici che posso comprare questo gioco, per favore, per favore! Julianna, basta, ok? Non puoi stressarmi così! Sì, ora mangi, e il gioco lo comprerai quando avrai soldi, se non vuoi mangiare, allora stai in camera! Oh mamma, dai, lo sapevo, lo sapevo, però se tu ti vuoi comprare una borsa nuova, allora va bene, eh! Allora dici, oh Martin, mi compro una nuova borsa! E papà dice, certo, ok, ok, ma se vuoi comprare un gioco non va bene, eh! Julian, Julian, non c'entra, io sono tua madre e se tu non hai dei soldi, non è colpa mia! Oh sì, sì, certo, certo, vado in camera mia, non mi interessa, non mangio! Ma se Julian non mangia, allora posso mangiare la sua porzione, è vero? Mamma, posso comprare io un gioco? Oh no, Emma, no, no, Emma, tu no, ok? Ora mangia per favore! Oh, accidenti, lo sapevo, lo sapevo che non mi avrebbe compiato nessun gioco! No, du, stupido, lo trovo stupido! Bambini, mangiate per favore, devo salire un attimo! Oh, non è possibile, non può avere tutto quello che vuoi! Julian! Lo trovo stupido, stupido! Julian, smettila! Oh, che cosa c'è ancora? Voglio il gioco, lo voglio! Julian, basta, hai abbastanza giochi! Perché ne vuoi ancora uno? E te l'ho già detto, devi risparmiare! Sì, ma lo sai quanto devo risparmiare? La mia vita è intera e poi potrò comprarmelo, mamma, per favore! Julian, lasciami stare, ok? Non ho voglia di discutere, lo sai cosa ne penso? Io ora vado a fare la spesa, tu resti qui con papà e per favore stai buono perché lui è malato, ok? Oh, wow, fantastico, lo sapevo, ora si comprano una borsa nuova e anche una per Anna e qualche gioco per Emma, ma per me no, niente! Oh, no, e adesso, e adesso guarda pure la pubblicità del gioco, wow, fantastico! Oh, come faccio a comprarmi questo gioco? Ma certo! Lo zio Mike, sì, aveva detto che aveva un distributore, sì, per i soldi, magari mi dà qualcosa! Chiedo, 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 sì, pronto, pronto, sono Martin Fogel, vorrei parlare, vorrei sì, il distributore, i soldi, no, no, non è uno scherzo! Sì, aspetto, avete trovato uno? Sì, bene, allora a spedirla a questo indirizzo, sì, 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 grazie, sì, sì, poi pago io! Ah, l'ho comprata, ha funzionato! Oh, assurdo, quindi lo porteranno qui da noi a casa! Oh, wow, papà dorme! Ok, ok, sono andato, sono andato, devo scendere veloce prima che papà si svegli! Buongiorno, buongiorno, giovanotto, ho qualcosa per il signor Martin Fogel, ma sto dormendo! Sì, 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 può lasciare anche la ricevuta sul tavolo, poi la firmerà! Oh, non sapevo che fosse stato così veloce, wow! Ok, ok, ecco qui il distributore, sì, la ricevuta sta lì, comunque deve pagare, non sarà nessun problema! Grazie, grazie, papà ci penserà! Oh, e vai, finalmente ne abbiamo una tutto per noi, e quindi potrò prendere tutti i soldi che voglio! E vai, non avrei mai pensato che sarebbe stato così semplice! Allora, così io potrei comprare tutti i giochi che voglio! Oh, perché non ci sono arrivato prima, così ideona! Allora penso che devo schiacciare semplicemente il tasto verde, poi escono i soldi! Oh, ma quanto è facile! Ora vado a comprarmi il gioco, sì, tutto così semplice! Buongiorno, Julian! Cosa? Cosa? Julian? Ma ma sto sognando, è quello un distributore! Cosa nella nostra cucina? No, 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 lo stai scherzando! Sì, sì, papà! È sorpresa, siamo ricchi, ricchissimi! Oh, no, 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 non siamo una banca! Ha, ha! Oh, a quanto pare sì, funziona, funziona! Ma mi sa che dovrei pagare qualcosa! Cosa? Cosa? È assurdo! Julian, Julian, cosa ci fa qui questo distributore? È una tua idea? Sì, mamma, sì, mamma, puoi farci dopo i pensieri che vuoi, ma potrei togliere tutti i soldi che vuoi quando vuoi, non hai bisogno di pensarci, non hai bisogno di andare a lavorare, niente! Claudia, Claudia! Come, come? Escono solamente monete e giocattoli lì, pensa che sia vero! Ah, ma ora facciamo finta di niente! Julian, Julian, ma come ci sei arrivato? L'hai ordinato? Sì, mamma, sì, perché volevo comprarmi questo nuovo gioco e quindi pensavo, oh, allora basta che mi compro un distributore di soldi, come dallo zio, no? Julian, ma come può essere... Vai subito in camera tua, te l'avevo detto che non potevi comprare il gioco! Oh, no, ecco, ora sono di nuovo qui, oh, senza soldi! Mamma, lei andrà a comprarti le borse, eh? Oh, che davvero creda che possa uscire del denaro vero! Oh, sì, sì, assurdo! Ma se ci penso davvero non sarebbe male avere qualcosa del genere a casa, sarebbe perfetto! Mamma, perché non mi aiuto? Ti sto aspettando da un sacco, ora devo portare io la bottiglia! Oh, cos'è questo? Oh, l'ho già visto da qualche parte nella panca! Oh, potrei prendere così tanti soldi! E mi coprerò tante, tante cose! Lecca, lecca, sì! E... 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 Grazie a tutti.